Ma poche sono le occasioni da retta, ma la larga adesso, con la possibilità di andare a prescire l'altra, uno contro uno, sabra, prende il fondo, però uscire dall'area di rigore di giro a doppio da parte di Oviedo ha successo, e scippa suci l'altra, regolarmente del pallone, dalla giocatoria del Porta di Cane, poi va al rilancio, 2-1, combatte con il filinico su questo pallone, alla fine ne esce un po' a destra, a favore dei tedeschi, quindi possono rionieri della zona d'attacco, vai lì. Dottor Marco Pastone cerca la verticalizzazione, non passa invece a chiudersi bene e a ripartire il dislancio, la squadra di Vines, perché di come ha fatto tutto il compagno...